Partiamo dalla cronaca. Depositata la perizia psichiatrica condotta su Irma Forte, la donna che uccise il marito a Santa Maria del Molise nel 2022, riconosciuta per lei l'incapacità di intendere e di volere. La capacità di intendere e di volere di Irma Forte era gravemente scemata quando uccise il marito Carlo Giancola nella loro abitazione di Santa Maria del Molise durante la notte della vigilia di Natale del 2022. È quanto emerso dalla perizia psichiatrica condotta sulla donna dal perito Teofilo Carmine Golia, nominato dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Isernia, che ha stabilito per la prossima settimana la nuova udienza. La donna, accusata di omicidio volontario aggravato, quella notte di due anni fa uccise il marito nella loro camera da letto dopo diverse ore passate a convincerlo ad andare a dormire. È stata lei stessa il giorno seguente a confessare per filo e per segno quanto accaduto, raccontando di essere vittima da anni di un matrimonio poco felice, fatto di violenza fisica e psicologica, trasformatasi in terrore. Anni terminati con la reazione di Irma Forte, mossa dall'esasperazione e durata troppo tempo. Così la perizia psichiatrica ha confermato quanto immaginato dai legali della donna, che avevano chiesto appunto una consulenza a volta ad accertare la capacità di intendere e di volere della donna.